C'è la musica, ci siamo gravati, fuori maghi, giusti al mondo. Vuole il하고 l'amico di lui, tu hai la mia gente, tu hai una cosa che torna-la. Certo? Ci sei? Ci sei? Lui ci sei? Non mi hava sugevesti, non mi hava traduccio nella, come o no con i clienti, come- Grazie a tutti. Grazie a tutti.